Musica Cosa significa per me essere un membro delle maestri piedi della dolorata? E' bene, quando sono venuta a contatto per la prima volta con le suore qui a Ceguto, ho visto il lavoro di carità che facevano con i giovani, togliendoli dalla strada, dando da mangiare agli affamati e fornendo loro un'istruzione basse. In quel momento ho capito che volevo essere una di loro perché ho sempre voluto aiutare le persone bisognose. Quindi, per me essere una maestra piedi della dolorata significa essere scelta dall'abbondante amore di Dio ad essere al servizio del suo popolo. Significa essere scelta ad amare con l'amore di mille cuori. Come diceva madre Elisabetta tanti anni fa, sono felice di vivere la vita consacrata e di condividere questa felicità con chi mi vive accanto e con coloro che incontro ogni giorno. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.